ciao benvenuti su delta gaming qui è delta 89 dopo una settimana ricca di informazioni e magari ne parleremo man mano che usciranno fuori più informazioni e più dettagli siamo arrivati al weekend e abbiamo un evento 2 per per praticamente tutte le schegge classiche quindi per le schegge antiche del vuoto e sacre magari questa notizia era stata data per me è stata un po inaspettata abbiamo ovviamente in corso la fusione per stock e ovviamente c'è un corso un torneo caccia ai campioni normalmente io aprirei qualunque fosse la scheggia del 2 per in questo caso possiamo scegliere quale scheggia aprire quindi mi dà questo l'opportunità di parlarvi del modo in cui io ragiono quando devo scegliere quali scheggi aprire adesso l'evento caccia ai campioni è un evento che ci assegna punti in funzione dei campioni che noi andiamo a trovare quindi se andiamo a vedere le informazioni che sono accessibili a tutti ovviamente eccole qua vediamo che in base alla rarità del campione e eventualmente se è del vuoto o meno andiamo ad accumulare diversi punti se facciamo una comparazione con quello che è invece l'evento corsa all'evocazione in quel caso noi per una scheggia sacra otteniamo 500 punti sia che troviamo un epico sia che troviamo un leggendario in questo caso invece da una scheggia sacra molto probabilmente ottenendo un epico andremo a ottenere solo 250 punti e solo qualora fossimo fortunati e trovassimo un leggendario andremo a trovare 500 punti quindi in generale questo ci dice che le schegge sacre seppur siano quelle che ci danno il maggior quantitativo di punti tra i due eventi comunque conviene utilizzarle durante una corsa all'evocazione ma non durante una caccia ai campioni o comunque conviene di meno farlo poi certo se abbiamo un due per in corso magari avremo aperto comunque delle schegge per quel due per e a quel punto non è troppo un problema in questo caso quindi potendo scegliere preferisco magari non consumarle se andiamo a vedere le schegge antiche queste ci daranno la maggior parte è rari qualche epico e qualche leggendario magari uno se siamo fortunati o nessuno se non lo siamo sicuramente qualche epico uscirà fuori quindi diciamo che male che ci va per ogni antica otteniamo 10 punti e ogni tanto 250 considerando quanto è più facile accumulare schegge antiche rispetto alle sacre già capiamo che è più facile per noi ottenere punti dalle antiche rispetto che le sacre infine bisogna guardare quelle del vuoto che per ogni raro ci danno 50 punti quindi ogni scheggia del vuoto che apriamo minimo 50 punti li facciamo se ci dice bene 350 quindi se guardiamo solo i campioni rari abbiamo un valore cinque volte più grande rispetto che le schegge antiche dipende poi da ognuno di noi valutare se per noi le schegge del vuoto valgono meno cinque volte più delle schegge antiche ovviamente essendoci un due per in corso su tutti i colori non è un problema perché molto probabilmente magari le schegge del vuoto le avremo comunque aperte durante un due per a questo punto le schegge del vuoto sicuramente sono l'opzione migliore per fare punti io però le ho aperte l'ultimo evento scorso che c'è stato un due per per le schegge del vuoto quindi non ne ho tantissime potrei sicuramente aprirne altre oppure potrei magari accumularne per il prossimo due per perché anche il mio ragionamento è il prossimo due per che potrebbe capitare magari durante un'altra fusione magari addirittura durante la fusione di natale magari avrò bisogno di avere quelle schegge a quel punto per fare punti e siccome mi ci vuole di più per accumulare quelle del vuoto e non ne ho necessariamente bisogno di aprirle adesso perché ho appena fatto un due per del vuoto due weekend fa a quel punto preferisco dare fondo alla mia riserva di schegge antiche e poi se avessi necessità di fare ulteriori punti andrò a aprire delle schegge del vuoto o magari anche delle sacre vedremo dove arriverò quanti punti farò quindi ecco questo è come ho ragionato io per scegliere quali schegge aprire e arrivare ai 3000 punti di cui ho bisogno per completare questo evento in palio tra l'altro abbiamo un'anima 5 stelle per stock quindi utilissima perché stock sicuramente beneficia molto dall'avere più precisione in arena anche più resistenza ovviamente ovviamente possiamo anche ottenere ulteriori frammenti che ci facilitino nel nel completamento dell'evento però l'idea di poter arrivare primo in questi tornei è davvero davvero remota io normalmente non ci faccio mai affidamento non lo considero davvero come una possibilità devo dire che nel mio gruppo attualmente nessuno ha fatto particolarmente tanti punti ma è un evento che durerà quattro giorni ne mancano ancora tre giorni e mezzo mi aspetto che qualcuno se li stia tenendo e magari domenica o addirittura lunedì quando non c'è più il due per inizia ad aprire schegge per garantirsi il primo posto se andiamo a vedere la classifica quella totale vediamo che c'è gente che già ha tirato giù un quantitativo di punti che è fuori dal mondo andiamo quindi ad aprire le schegge io ne ho 74 antiche quindi le aprirò tutte sono a 106 con il mio mercy per un leggendario potrebbe uscirne fuori uno se non dovesse uscirne uno vuol dire che sarò molto vicino il prossimo evento campioni extra sicuramente sarò pronto quindi cominciamo con queste poi in base a quanti punti ho fatto deciderò se aprire le schegge del vuoto o meno come al solito fateci sapere anche voi quante schegge avete aperto e che campioni avete trovato lasciate un like su questo video iscrivetevi al canale e raggiungeteci su discord detto questo comincio e andiamo con le prime 10 subito un paio di epici buono sono sicuramente punti la cosa che mi interessa più di tutte è ottenere più epici possibili per quanto riguarda questi campioni non ho molto di che da dire quindi andiamo avanti vediamo se sarà un'apertura rapida di schegge o se invece otterremo campioni interessanti sul quale vale la pena fermarsi a parlare per ora nulla ok andiamo avanti ok un paio di epici anche qui sempre buoni punti speriamo di ottenere almeno un leggendario non mi dispiacerebbe a livello di matematica non sarebbe scandaloso se me ne uscisse uno anche se sono stato molto fortunato finora poi dipende sempre chi esce perché magari esce un leggendario che non ci interessa mostro miscreato campione che può avere le sue utilità diciamo è bravo a stordire gli avversari oltre che a darci uno scudo tre turni su tre quindi può avere un'utilità per esempio contro lo scarabbeo che attualmente è uno dei boss che dobbiamo affrontare nella torre sventura un leggendario a secondo blizzard e vabbè non un leggendario che ambivo ad ottenere nuovamente non è male come campione non è assolutamente male sicuramente se non avete altre alternative può aiutarvi contro il cavaliere pericottos è stato il campione della fusione di natale dell'anno scorso che io ho fuso però devo dire che non mi sono ritrovato a utilizzarlo così tanto come avrei voluto la sua uno attacca tre volte a caso ogni colpo a un 40 50 per cento con i libri di piazzare congelamento quindi non è male non è assolutamente come nut ma sicuramente migliore di qualunque altro campione per quanto riguarda la probabilità sulla a1 per quanto riguarda la 2 rimuove qualunque debuff di controllo e quindi ci può sicuramente aiutare sarebbe stato meglio a quel punto se avesse avuto la capacità di rimuovere qualunque debuff in quel caso lo avrebbe sicuramente reso molto più utile in tante altre aree del gioco poi ci piazza un incremento difesa e una protezione alleati su tutti gli alleati eccetto di sé ovviamente per due turni e queste comunque è un'abilità che ci permette di rimanere in vita e di mantenere il nostro team in vita più a lungo e infine abbiamo la sua a3 che attacca tutti i nemici a un 100 per cento con i libri di possibilità di congelare per un turno in più ha sempre un 100 per cento di possibilità di ridurre la barra turno di tutti i nemici del 30 per cento purtroppo ce ne facciamo poco contro il cavaliere pirico di questo secondo effetto sarebbe stato carino avere un qualcosa tipo nut che o riduce la barra turno o congela e quindi se avesse dato un secondo colpo magari o avesse tentato una seconda volta di congelare non sarebbe stato male sicuramente ci può aiutare contro le ondate per controllare le ondate per portare un minimo di danno per tenere il nostro team in vita in contesti per esempio come la torre sventura sintranos può sicuramente dare il suo contributo nella cripta della fazione può dare il suo contributo ovviamente contro il cavaliere pirico può dare il suo contributo qualora non avessimo campioni migliori di lui e avessimo dei libri leggendari da voler spendere perché ovviamente rispetto un criodan o un eldor che hanno le probabilità leggermente più basse però abbiamo bisogno di libri epici che è molto più facile da ottenere quindi è più facile buildarli per quanto riguarda la sua passiva passiva molto interessante ogni volta un nemico cerca di piazzare congelamento su questo campione istantaneamente lo trasferisce indietro a quel nemico potrebbe essere interessante contro un un tormin però il problema è che tormino fa su tutta la squadra potenzialmente non solo su di lui contro i boss ha poco senso perché non possiamo congelarli quindi contro il golem di ghiaccio non ha senso però quello che ci interessa di più in realtà della sua passiva è la sua parte attiva che con i libri e ogni tre turni e ci dice che ogni volta che questo campione è ucciso lui resusciterà da solo con 30 per cento hp e 30 per cento barra turno e si piazza anche un resuscita dopo la morte su di lui per un turno quindi se viene ucciso resuscita da solo si mette resuscita dopo la morte e quindi se viene riattaccato e rimuore di nuovo lui resuscita nuovamente se siamo abbastanza veloci dobbiamo arrivare a fare questi tre turni in modo da ricaricare la sua passiva e quindi quando subiamo un ulteriore colpo che ci va a uccidere noi abbiamo riattivato la parte attiva di questa abilità e quindi lui va a resuscitare di nuovo alcuni lo hanno utilizzato contro magari lo utilizzano ancora contro il demonio sabbioso perché se lo abbiamo abbastanza veloce riusciamo a resuscitare abbastanza frequentemente a non morire mai e nel tempo possiamo danneggiare il boss con sia l'attivazione di war master sia se abbiamo abbastanza stelle di risveglio con zolfo quindi questo è un quadro su questo campione io non l'ho mai utilizzato contro il demonio perché utilizzavo nut e aniri e adesso potrei eventualmente ribildare il mio team con un doppio nut quindi cambiare strategia c'è un video a riguardo di torre eventualmente se volete vedere un team del genere andiamo avanti sicuramente questo mi ha permesso di fare un po di punti acceleriamo tutti rari a questa non è andata bene diamo un po se qui andrà meglio ok ok qualche epico armina bushi pestilius school crusher non campioni che utilizzo school crusher l'utilizzavo abbastanza in passato è uno tuttora degli unici tre campioni che mette contrattacco su tutta la squadra e da quello che plarium ha detto non hanno intenzione di rilasciarne di nuovi poi magari cambieranno idea perché all'interno delle aziende il management cambia e la direzione cambiano per esempio plarium adesso è stata acquisita da un'ulteriore da un'altra azienda quindi magari alcune direttive potrebbero variare ne abbiamo altre quattro da aprire vediamo se dovesse uscire un epico due non mi dispiacerebbe per fare qualche punti ovviamente un leggendario ormai la vedo improbabile ultima e poi vediamo quanti punti ho fatto eccoci qua perfetto abbondantemente oltre quello che avevo bisogno non mi voglio spingere fino a 10.000 per prendere questo libro mitico richiederebbe troppe schegge questo libro leggendario mi basta se fossi arrivato più su magari vicino ai 7.000 ci sarei ci avrei pensato per poter prendere quest'altro ma direi che per ora posso fermarmi qui poi in base a come evolveranno le cose nel weekend valuterò perché teoricamente io posso arrivare tranquillamente verso i 15 16.000 punti se volessi in quel caso potrei ottenere il premio vediamo quello che succederà ma come ho detto mi aspetto sicuramente che qualcuno inizierà a fare punti verso la fine del weekend a quel punto io aspetterò e vedrò come evolve la situazione non rischio di investire tutte le mie risorse adesso per poi trovarmi qualcuno che all'ultimo momento mi supera e così è andata per questo weekend dopo tutti i colpi di fortuna che ho avuto nelle settimane precedenti non posso diciamo lamentarmi comunque un leggendario l'ho trovato che mi servirà come guardiano della fazione mi raccomando se avete dei doppioni non vale troppo la pena utilizzarli per potenziare i propri campioni fino a che non avete completato i guardiani delle fazioni quindi l'idea è avere cinque coppie di doppioni disponibili e poi tutti i doppioni in più che si andranno a trovare possono essere utilizzati per potenziare i nostri leggendari questo quindi è tutto per il video di oggi come ho già detto fateci sapere voi quante scheggia avete aperto e che campioni avete trovato lasciate un commento qui sotto e lasciate anche un like su questo video iscrivetevi al canale raggiungeteci su discord e io per oggi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti